Le fiamme si sono sviluppate dalla finestra di un'aula che si trova nella parte retrostante del liceo scientifico Sciascia di Canicattì. I piromani sono entrati in azione di notte e lo hanno fatto in maniera tranquilla, indisturbata, senza essere né visti né sentiti né tantomeno ripresi dalle telecamere di videosorveglianza che non funzionano. Anche per entrare non hanno avuto problemi, non hanno dovuto scavalcare il recinto perché nel lato adiacente al parco invia Pierpaolo Pasolini l'inferriata e divelta. Le fiamme sono partite da questa finestra, hanno annerito questa classe e poi si sono propagate nelle altre aule rendendo inagibile la struttura, tanto che stamattina gli studenti non hanno potuto svolgere le lezioni e sono stati rimandati a casa e ci staranno per qualche giorno visto che le operazioni di bonifica e ripristino dei luoghi saranno lunghe, in attesa di altre possibili soluzioni. Sul posto si sono portati gli agenti del commissariato di Canicattì che hanno avviato le indagini, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo. La scientifica della polizia sta attendendo il verbale dei pompieri, soprattutto per capire quale sostanza sia stata usata per fare in modo che le fiamme annerissero la maggior parte dell'edificio. Le indagini dunque sono soltanto all'inizio.